Manca tanto signora? No, no, solo venti giorni. Amuri. Grazie. Nato. Nata, Sofia. Amuri, buon Natale. Buon Natale. Amuri. Amuri. Scusi, scusi. Beatrice. Bea. Sono Roberto. È Roberto Marino. Ti ricordi la dottoressa Grimaldi, la collana di perle? Chiedo bene, abbiamo avuto dei problemi nell'ultimo periodo e non rammento tutti gli individui con i quali solevo intrattenermi. Come parli? Quindi, se ho inteso bene, noi due saremmo due conoscenti. Sul tuo librone c'è anche una mia foto. Ah, lei rammenta anche l'esistenza del librone. Sì, lo rammento. Sapessi per quanto tempo ti ho cercato, Bea. Senti, io fra cinque minuti stacco. Ti posso offrire qualcosa da bere? Volentieri. Un po' di refrigerio mi ci vuole proprio.